Il titolo che abbiamo scelto è Il gusto della cultura, la cultura del gusto. Questo titolo richiama in sé tutto quello che siamo pronti a mostrarvi a San Costanzo. Colori, odori, sapori, ricette, folklore, per una settimana che vede oltre 30 iniziative organizzate in 7 giorni. Abbiamo 7 rappresentazioni teatrali, tra cui concerti nella nostra bomboniera, al Teatro della Concordia di San Costanzo, 6 menù dialettali appositamente creati dai nostri ristoratori, presentazioni di libri, escursioni, la poesia diffusa, le mostre d'arte, la gara di lancio del formaggio a squadre. Questa è una peculiarità tutta nostra, veramente tantissime iniziative per tutti i gusti, anche per i bambini, torna a andare per fiabe, ma sicuramente l'evento più importante di tutti, che è quello che racchiude quello che siamo, è ritrovarsi sabato 23 marzo in Piazza Perticari con la Sagra delle Sagre. San Costanzo, infatti, è uno dei pochi comuni che riesce ad avere un'organizzazione di feste sagre folcloristiche all'interno dell'anno con una concentrazione molto importante, ben quattro feste, quindi in Piazza Perticari avremo la polenta di San Costanzo, la crescia di Stacciola, la trippa di Cerasa, lo stufato di Cinghiale e i dolci dei nostri pensionati. Il tutto accompagnato dal gruppo caratteristico musicale La Matta di San Costanzo e dai canti propriziatori dei Pasquellanti. Questa settimana non abbiamo cercato i fuochi d'artificio, ma abbiamo cercato di farvi vedere quello che di meglio sappiamo già fare durante tutto l'anno e abbiamo l'ambizione di dire e di affermare, come scrisse Cesare Pavese, che un paese ci vuole. Un programma veramente impressionante, non solo per il numero degli appuntamenti, per la qualità, ma per il trasporto, il senso di comunità che si avverte nella costruzione del programma e anche per aver saputo toccare i tasti classici della programmazione culturale, quindi dal libro al teatro, alla conferenza, alla mostra, ma anche tanti elementi di aggregazione, fino alla Sagra delle Sagre, San Costanzo è una delle realtà dal punto di vista agroalimentare, e non gastronomico, il più interessante d'Italia, sicuramente della nostra regione, che ha saputo rendere meglio, con appuntamenti canonici, ma neanche tanto, anche qui originali, all'interno dei ristoranti, ma anche tanti altri momenti originali, fino anche alla tradizione della gara, del lancio del formaggio. Artisti, musicisti, come sentiamo in questo momento, sarà non solo una grande festa, ma anche delle grandi basi messe per il futuro, perché tutte le iniziative che sono pensate per questa settimana, come in realtà il focus delle iniziative, anche del dossier della Capitale della Cultura, non vogliono essere di fuochi d'artificio, per quanto spettacolari, ma vogliono costituire un grande fuoco olimpico replicabile, che potrà continuare a ardere nei mesi, negli anni prossimi, nei vari comuni, tutti assieme, e dove verranno proposti. E noi ti salutiamo tutti quanti, la pace rilasciante, tutti santi.